ciao amici ciao amici di twitch cominciamo questo meticissimo gioco di hong kong massacra allora forse forse cane spostati cagnolina spostati ollie 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 eccomo brava ollie allora incominciamo ragazzi amici di twitch ciao amici di twitch ciao oh welcome back i have been waiting for you still drawing old fashion si si che l'informazione dell'informazione del drago tu vuoi start yes born fortunes questo era il assunto dall'inglese ragazzi questo è un india raga the hong kong massacre ciao 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 così raga no dai marchito allora me l'aveva detto l'amico Andre cazzo che era difficile ma non così tanto dai ma se sparano anche loro mi segano cazzo raga è troppo un casino dai che sfiga grazie a tutti ma penso di averla ammazzata normalmente la gente normale ci mette una run una volta io sono morto sette volte allora questi praticamente sono sono a live oh caspita grazie a tutti ho visto che figata porca loca no vieni porca mi l'ho abituato alla pistola dai eh si ha tirato una pompata no e beh c'aveva ragione c'aveva ragione colpo su colpo dai sulla porta con la pompa non ci arrivi non ci riesci c'era il mitra non ci credo il mitra ma che se la pistola non è niente male eh devo dirvi ragazzi decima spompato cazzo mi prende sempre bella lì amici di twitch oh my gosh ho preso troppa confidenza il primo qua me lo faccio come se fosse un un cotechino ah ma passano anche attraverso i muri ah qui ci sarà il trofeo muori 177 volte dai mi sono fatto fregare così eppure l'avevo segato tipo dalla finestra l'unica cosa che avevo paura che avevo paura erano i comandi eh invece sono fatti bene mi ha fregato dai pistola contro pistola non vigna nessuno eh cazzo ha sparato anche lui ha sparato anche lui e vabbò cazzarola raga ah ma c'è un senza la guaritrice finisci in meno di un minuto e la mia battaglia madonna è vero eh sì vabbè se spalli lei metti questo quello che non ce l'ho fatto insomma è seri se lo sai di lei è molto bello il mitra seri che dura così poco dai no è bellissimo il mitra dai è arrivato l'altro ah no sempre lui col mitra tutta 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 dai dai sei strunz allora cominciamo a morire come un cuiu dai è un pompa ma come fa a mazzarmi da lì su johnny un po' è un po' un po' mi dai cazzarola bello, ho fatto un po' la Johnny Witch questo l'ha fatto a minchia oma e vabbò e vabbò dead e vabbò porca roca siiii madonna ragazzi sono proprio 5 eh muoio tipo 57 volte enemy king no death 33 time 40 secondi no slow motion perfect im direi proprio più di no slow motion usa io slow motion if you were in a crowded situation ah c'è anche la slow motion e io non lo so come si fa fare lo slow motion slow motion prima interrogazione del sospetto la registrazione regarding ah no non lo ricordi it's not to first place no just 10 giugno 13 presentata l'interrogazione la polizia Xu Wong sospettato interrogazione start le 3 e 45 del 14 giugno del 92 start to bring you to Hong Kong arrivo alle 17 e 15 con volo dalla Bolivia adesso sospettato surveillance footage front airport si ok alle 21 ha aperto la porta l'apportamento l'apportamento usava e gli segui quella droga turno in a blood but non so using event to the after place l'apportamento del 10 ok andiamo a sparare si si è fatto bello bellino bellino veramente bellino sto gioco si allora io ho 4 stelle shotgun smg vai con l'smg ok è la mitraglietta sicuramente oh my god ok ok oh cazzarola torca 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 porca loca cazzarola cazzarola dai ma come ha fatto premere con un pompa da inculonia e eh c'aveva il fucilozzo anche lui e 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 ok vai 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 oh cazzarola da dietro raga e chi l'aveva visto chi l'ho porca come direbbe omar simpson dai ecco il destra e il sinistra alza poi non fai in sci oh mio dio questo è un orario da farming simulator se vi devo dire la verità più che da un gioco del genere porca loca l'avevo visto ho visto il proiettile no 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 orca noca no 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 22 colpi ci sta devo stare attento perchè qua non so assolutamente dove sono porca miseria ebbe ebbe non no 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 No. Un po' migliorato, eh? Un po' migliorato, raga. Quanti punti servono? Un po' migliorato. 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 Grazie a tutti. 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 16 colpi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 su YouTube. a tutti.